La stagione e aver capito che qualcosa poteva succedere, la mia anche partita, una innanzitutto è il Napoli-Chievo del 2009, gol di Montervino dopo tre minuti, quella è la prima partita assoluta, è altissimo, invece anche io, un Napoli-Chievo, prima sono uscito quindi non so se è stata citata, ma un Napoli-Chievo di Coppa Italia, 3-0 al San Paolo, a tempo e quindi quella è in assoluto quella che mi ha fatto proprio esplodere, anche perché poi stando in curva era più facile essere, era in curva B, ricordi che al gol di Renica ci fu un superiore all'alto e al basso, io ero solo presso, praticamente stavo in campo, poi ho risalito, e quindi quella è la mia partita preferita, in assoluto proprio se devo descrivermi una metto quella. E questo 3-3 ce lo guardiamo in tv, attraverso...